Salve a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale, oggi siamo con Resident Evil 7 ragazzi, la demo Io c'ho l'ansia, non so voi regà però io non è che gioco molto a giochi horror, ho giocato ad Outlast Ho giocato anche un pochino ad altri titoli ma diciamo che questo Resident Evil regà mi mette in ansia addosso che voi mancobbe potete immaginare E niente io direi di procedere subito all'azione ed immergerci in questo nuovo Resident Evil diverso dagli altri e Mamma mia regà non sto nella pelle, avvia il gioco Bene Siamo ripresi da una telecamera E vediamo come noi siamo in una videocamera, non la capisco sta cosa Ma spero che st'effetto videocamera sparisca Dai liberami, liberami Ma io avevo messo l'audio in italiano Ed eccoci qua Ci hanno liberato dalla corda O comunque dalle fascette Trova una via di uscita Ok La grafica è bellissima Guardate Oh oh Ah il televisore, vaffanculo Ti sfracelle Rocco? Ma chi te sei in cula? Non mi sfracelli da nessuna parte tu Madonna che foto ansiose Ti serve una videocassetta? Ok Pianoforte Vorrei suonarlo ma se lo suono può succedere qualcosa Io lo so Ecco Questa casa, regà Sceso i spiriti Mamma mia Non aprite quella porta Non aprire quella porta Babba pia, regà Babba pia Babba pia Che cazzo è qua? Mamma mia, regà Che parura Che Che cazzo Sono queste bambolette appese Babba pia Babba Babba pia Babba Babba pia Che ansia, regà Che ansia Bello, regà Quanto tempo è che Menn'orologio Che è? Era tanto che non giocavo più a giochi così Cazzo Bello, bello Che cazzo è? Una cucina de merda questa Ok Chiudiamo il rubinetto Perfetto Non c'è la madonna Sti rumori a me Dio mio I quadri Voglio stare sul prato pure io Ehi Una Madre de dio Prendi le tronchesi Beh E la madonna Che cos'è? Un pupazzotto Che cos'è qua? Posso la butto Guardo Combina oggetto Usa oggetto Allora Ma noi possiamo Mennà Fa qualcosa? No Possiamo fa Ah Ti vi spaventi Ah Apri Apri questa porta Ok Misia Non rompe il cazzo Tu Ok Qua c'è Un lucchetto Con una catena Usiamole Vai Sì E c'è la videocassetta Perfetto Perfetto Adesso Di logica Noi tornando indietro Dovremmo Tipo Spaventarci Perché Tanto I giochi sono sempre Così sopra Ci vado col cazzo Oddio Oddio Ma perché Devo entrare qua dentro Proviamo Entriamo Entriamo Dio mio Che ansia Dio mio Che ansia Che bello Quando ci stanno I giochi così Mamma mia Metti la videocassetta No Ho detto La videocassetta Vai Perfetto Eh Boh Un cazzo Boh Mottobian corpo Funziona Funziona Ah Devo camminare Nel video Fichissimo Quindi con questo Ci abbassiamo Apriamo Filmiamo l'interno E poi parte l'interno E questo è il menu Ok Io se fossi in te Non entrerai qui dentro Non entrerai qui dentro Fate Vobbis C'è uno spruzzetto Lì per terra Siamo pronti? Le falene Cominciamo Vai Entra Fatti da passi Sì Adesso è aperta Ok Dopodiché Allora Io devo Io devo solo Riprendere Giusto Cosa abbiamo Casa schifosa Rumori strani Mamma mia La porta si è chiusa Ottimo inserto Quindi Questi contadinotti scompaiono I baker non dai contadino Jack e margherine Gente tranquilla Non arretrata Carne e melma Tirano brutte voce sul figlio Lucas La pecora nera Ma merda Che è ci accadossi? Ma sarà bomido Che vuoi che sia? Sono vaccinato Comunque È un gran bello sfondo Andre Che dici? Andre? Andre Ops Andre È sparito Eh no Io stavo a guardare a te Dov'è? Oh cazzo Non posso crederci Non lavorerò mai più con lui Pezzo di merda Ma un buon cameraman come te? Resta vicino Merda secca Eh ma cammina però Su Non fa venire più ansia Eh sì Se magari entri Che c'ho la telecamera Non posso aprire Andre? Ma guarda sto coglione Che sparisce Così oh Zio caro Andre dove sei? Oh il videoregistrater qua non c'era Un cammino Un cammino Perché vai a guardare il cammino? Oh Che figata Facciamo così Troviamo Andre e poi ce ne andiamo Sì Guarda te sei guarota Andiamo Ok Qua se scende giù Ma non penso che passerò di qua no? Era chiuso il passaggio Cazzo Dove vai? Potevi andare a vedere il piano di sopra no? Eh certo Prima io Mentre scendo Eh certo Beh allora Vai pure Io ci vado Mamma mia che posto brutto regà Che c'è qua per terra Eccolo Sta qua allora Dai eroe scendi cazzo Ma che sta a fare questo Oh ma è Ma è impalato Porco Diavolo Merda E questo chi è? Eh ragazzi Questo gioco Si prospetta Bellissimo Proprio Beh Ti sfraccellerò Contro la pietra Merda 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 Quindi io dovrei andare lì sotto? Io non penso proprio Eh Io non penso proprio Penso proprio che tornerò indietro E Andiamo al piano sopra Ma perché? Io vorrei sapere il perché Io devo Sta qua Oh mamma mia Oh mamma mia Oh mamma mia Che è st'interruttore? Scale Quindi c'è st'interruttore? Quindi c'è st'interruttore? Sta una soffitta qui Non funziona Perfetto Quindi dobbiamo per forza Andare giù Sta luce che sfarfalla Spero che non si spenga mai Guarda Ok Preferivo i vecchi Resident Evil Sinceramente Perché comunque Con i vecchi Resident Evil Avevo le armi Ma perché sta porta Se chiude sempre Ogni volta C'ho l'ansia Per aprirla Siringhe Con i vecchi Resident Evil Almeno c'avevo la possibilità Di Uccidere I zombie Ok Va bene E niente Regà Andiamo giù Vediamo Quello che succede Chiave della porta Sul retro Andiamo se ne via Regà Andiamo se ne via Che stiamo a fa' qua Oh 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 No Regà No Porco Dinci Cristo No Vabbè No Vabbè Vabbè Dai Cristo No eh Era il pazzo Che ha ammazzato Quello Oh Aiuto 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 Eh No Regà No 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 Posta porta qua C'è qualcuno qua No Ok Una pistola Voglio una pistola Cristo Un'arma Merda Merda Secca Merda Secca Merda Secca Merda Secca Cazzo 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 No 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 C'ho L'ansia C'ho L'ansia L'interio dovrebbe essere scriptato in modo tale che non mi succede niente per adesso Ma che ne so io come l'hanno fatti i sviluppatori Merda Oh i barati Sì ma c'è un problema E c'è un vaffanculo Porco dici regà io bestemmiavo io Dio via via salvezza 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 Apri Esci fuori No Vaffanculo vecchio di merda Lo sapevo che me veniva a prende Oddio regà che ansia sto gioco Ah ok Perfetto E qui Adesso vediamo come ci hanno catturato quindi Cioè abbiamo visto come ci hanno catturato E lui è ancora vivo Oh Chi cazzo è questa No Ma chi è Ma non era un uomo Ma che c'è una donna pazza Madre del dio quanto sei brutta figlia mia Ok Di nuovo Lo schermo è tipo in pausa Non c'è via di fuga Benvenuti in famiglia 24 gennaio del 2017 Acquista ora Ah è finito Era solo questa la demo Bene Parteci dal programma Ambasciatore di Resident Evil Vabbè regà Niente È finita così La La demo Di Resident Evil Beh regà Che dire Ci ho giocato Ecco Ho giocato tutta la demo E devo dire che merita E devo dire che merita regà Merita tanto Se è come promette Promette davvero bene ragazzi Io Penso proprio che lo acquisterò Perché Giochi che comunque mi mettono ansia così Sono belli Perché comunque Vari giochi non Rimani sempre un po' passivo Di fronte allo schermo E vediamo un po' Cliccando X Se va avanti Se fa qualcosa Niente ragazzi È finito qui Quindi io Spero che Il video vi sia piaciuto Ragazzi Lasciate un mi piace Iscrivetevi al mio canale Se ancora non lo avete fatto Andate a visitare anche la mia pagina Facebook Per rimanere sempre aggiornati Sui video che pubblico Comunque su eventi Live E così via E Ragazzi Un abbraccio a tutti E Bella